La casa di bambola infestata Il signor Dillet indicò con il bastone un oggetto che sarà descritto a tempo debito e disse Suppongo che roba del genere vi passi tra le mani piuttosto spesso E mentre parlava mentiva sfacciatamente sapendo di mentire Neanche in vent'anni, forse neppure in una vita intera Il signor Kitternden, per quanto esperto a scovare tesori Dimenticati in mezza dozzina di contee Avrebbe saputo sperare di trovare un esemplare simile Quel modo di parlare era tipico dei collezionisti E Kitternden lo capì subito Roba del genere, signor Dillet Questo è un pezzo da museo, altro che Beh, certi musei comprano qualunque cosa, no? Qualche anno fa ne ho visto un'altra Ma non così bella Disse Kitternden, sovra pensiero Ma è difficile che venga mai messa in vendita E mi dicono che oltreoceano ce ne sono di belle dello stesso periodo No signor Dillet, sono sincero Quando vi dico che se voleste presentarmi un ordine illimitato per il meglio che c'è qui dentro E voi sapete bene che ho il modo di conoscere bene queste cose E che ho una reputazione da difendere Beh, io posso solo dirvi che vi porterei dritto a vedere questa e direi Non posso offrirvi di meglio, signore Addirittura! Esclamò Dillet Battendo un ironico applauso con la punta del bastone sul pavimento del negozio E dite A quanto la rifilereste a un ingenuo cliente americano? Oh, con il cliente americano o no Non tirerò certo sul prazzo Vedete, signor Dillet, le cose stanno così Se solo sapessi un po' di più sulla storia O un po' meno Lo interrompe Dillet Vi piace scherzare, signore? No Ma come vi stavo dicendo Se solo sapessi su questo pezzo Un po' di più di quanto sappia Sebbene chiunque veda da solo che è autentico Da cima a fondo E che io non abbia permesso a nessuno dei miei uomini di toccarlo Da che è entrato nel negozio Allora, alla somma che chiedo Andrebbe ad aggiungersi un altro zero E quant'è? 25? Moltiplicate quel numero per 3 E l'avrete, signore 75 al suo prezzo Per 50 è mia Rispose Dillet L'accordo, come è ovvio Si raggiunse più o meno a metà strada Non importa dove esattamente Ma credo che si trattasse di 60 Guinea Fatto sta che mezz'ora dopo L'oggetto in questione veniva impacchettato E che dopo un'ora Il signor Dillet Passava a ritirarlo con la sua automobile Stringendo la segna in mano Il signor Kittenden Lo accompagnò alla porta con grandi sorrisi E se ne tornò Ancora sorridente In salotto Dove la moglie Stava preparando il tè Nell'entrare Si fermò sulla soglia Se n'è andata Disse Grazie al cielo Rispose la signora Kittenden Posando la teiera Era il signor Dillet, vero? Si Beh, meglio lui che un altro Oh, non lo so, mia cara Non è una cattiva persona Sarà Ma secondo me Una bella scossa Male non può fargli Beh, se la pensi così Io però non sono d'accordo A ogni modo Noi non dovremmo più vederla E di questo Dobbiamo rendere grazie Detto questo Il signore E la signora Kittenden Si sedettero a tavola per il tè E cosa ne fu Del signor Dillet E del suo nuovo acquisto? Di che cosa si trattasse? Lo avrete capito? Lo avrete capito? Dal titolo del racconto Come fosse fatta Dovrò spiegarlo Come meglio posso Nell'automobile Entrava appena E il signor Dillet Dovette sedersi Accanto all'autista Questi fu costretto A guidare piano Perché Anche se le stanze Della casa di Bambola Erano state Tutte imbottite Con cura Di sofficio vatta Dato l'immenso numero Di oggettini Che vi erano stipati Era meglio evitare i sobbalzi Durante il viaggio Di 15 km Dillet Era in grande apprensione Nonostante le mille precauzioni Su cui Tanto aveva insistito Alla fine Raggiunsero la porta Di casa sua E Collins Il maggiordomo Gli andò incontro Collins Devi aiutarmi con questa È una faccenda delicata Dobbiamo tirarla fuori Senza inclinarla Capito? È piena di oggettini Che devono spostarsi Il meno possibile Vediamo Dove possiamo metterla? Dillet Fece una pausa Di riflessione In realtà Penso che la metterò Nella mia stanza Se non altro Per il momento Sul tavolo grande Sì Fu trasportata Con mille raccomandazioni Al primo piano Nell'ampia stanza Del signor Dillet Che affacciava Sul vialetto D'ingresso Rimossero l'imballo E aprirono La facciata E per un paio d'ore Il padrone di casa Fu completamente assorto Nel compito Di estrarre L'imbottitura E di sistemare I pezzi Di ogni stanza Quando questo lavoro Decisamente gradito Fu terminato Devo dire Che sarebbe stato difficile Trovare un esemplare Di casa di bambola In stile gotico Inglese Più bello e perfetto Di quello che si ergeva adesso Sul grande tavolo di legno Del signor Dillet Illuminato Dall'ultimo sole Che filtrava obliquo Dalle tre alte finestre Ghigliottina Della camera Era lunga Quasi due metri Comprese la cappella Che si protendeva A sinistra della casa Guardando la facciata E la scuderia A destra La struttura principale Era Come ho già detto In stile gotico Le finestre Erano cioè Sormontate Da archi A sesto acuto E da cupole Cosiddette ogivali Con frontoni Fioriti E pinnacoli Come quelli Che si vedono Sui baldacchini Delle tombe Incassate nei muri Delle chiese Agli angoli Sorgevano Assurde torrette Coperte Da pannelli Bombati La cappella Era decorata Con pinnacoli E con traffordi E c'erano Una campana Della torre E i vetri Colorati Alle finestre Rimuovendo La facciata Della casa Si scoprivano Quattro grandi Stanze Una camera Da letto Una sala Da pranzo Un salotto E una cucina Ciascuna Arredata Nel modo Più appropriato E completo La scuderia A destra Era su due piani Con tanto di cavalli Carrozze E palafrenieri Oltre all'orologio E alla cupola Gotica Per la campana Pagine intere E ovvio Si potrebbero scrivere Sul corredo Di quella ricca dimora Su quante pentole Sede dorate Su quanti quadri Tappeti Candelabri Baldacchini Tovaglie Cristalli Terracotte E piatti Vi si trovassero Ma questo Andrà lasciato All'immaginazione Dirò soltanto Che la base O plinto Su cui si poggiava La casa Piuttosto alta E in cui erano inserite Una scalinata all'ingresso E una terrazza Parzialmente balaustrata Conteneva Uno o due cassetti bassi In cui erano conservati In bell'ordine Completi di tende ricamate Cambi di vestiario Per gli abitanti E per farla breve Tutto l'occorrente Per una serie infinita Di variazioni E modifiche Del tipo più appassionante E delizioso La quintessenza Di Horus Walpole Ecco cos'è Lo scrittore Deve aver avuto Qualcosa a che fare Con la sua costruzione Tali erano le riflessioni Mormorate Dal signor Dillet Mentre se ne stava In ginocchiato Di davanti In reverente estasi Decisamente magnifica Questo è proprio Il mio giorno fortunato 500 sterline 500 sterline incassate Stamattina Per quell'armadietto Di cui non mi era mai Importato un bel niente E adesso questa Che mi finisce Tra le mani Per un decimo A dir tanto Di quel che costerebbe In città Bene Bene C'è quasi Di aver paura Che capiti qualcosa Per contrastare Questa fortuna Ma adesso Diamo un'occhiata Agli abitanti Detto Fatto Dillet Li dispose Tutti in fila Davanti a sé Ecco dunque Un'altra opportunità Che alcuni Non si lascerebbero Sfuggire Di stendere Un elenco completo Dell'abbigliamento Quanto a me Non ne sono capace C'erano comunque Un signore E una signora Vestiti rispettivamente In raso blu E imbroccato C'erano due bambini Un maschietto E una femminuccia C'erano un cuoco Una baglia Un lacchè I cartoni Della scuoleria Due postiglioni Un cocchiere E due stallieri Nessun altro? Non lo escluderei Le tende del baldacchino Nella camera da letto Erano chiuse Da tutti e quattro i lati E Dillet Vi infilò in mezzo Un dito Per toccare il letto Lo ritirò però subito Perché gli era quasi parso Che Quando lo aveva premuto Qualcosa si fosse Non proprio mosso Magari Ma piegato In un modo strano E vivo Allora scostò le tende Che scorrevano su dei bastoni Come quelle vere Prelevò dal letto Un anziano signore canuto Con una lunga camicia di lino E un berretto da notte E lo pose accanto agli altri Adesso i conti tornavano Si stava facendo ora di cena Così il signor Dillet Si soffermò Non più di cinque minuti A disporre la signora E i bambini Nel salotto Il signore Nella sala da pranzo La servitù Nella cucina E nella scuderia E il vecchio Nel suo letto Dopodiché Si ritirò Nello spogliatoio Lì accanto E noi dovremmo Aspettare Presse a poco Fino all'uno di notte Per sentirlo O vederlo di nuovo Il padrone di casa Aveva il capriccio Di dormire circondato Da alcune gemme Della sua collezione La grande camera In cui lo abbiamo visto Conteneva il suo letto Il bagno Il guardaroba E tutto l'armamentario Per vestirsi Si trovavano In un'ampia stanza adiacente Ma il baddacchino Che da solo valeva una fortuna Si ergeva nella grande camera Dove a volte Scriveva E spesso Se ne stava seduto A ricevere visite Quella sera Quando vi entrò Era molto soddisfatto Orologi Che annunciassero l'ora Lì attorno Non ce n'erano Né sulle scale Né nelle stalle Né nel lontano Campanile Della chiesa Ma senza dubbio Il signor Dillet Fu svegliato di colpo Da un gradevolissimo sonno A causa Di una campana Che batteva l'una La sorpresa fu tale Che non restò Soltanto senza fiato E con gli occhi spalancati Ma si mise anche A sedere sul letto Non si chiese Fino alle prime ore del mattino Come mai Anche se nella stanza Non c'era luce La casa di Bambola Spicasse perfettamente Nitida Sullo scrittoio Eppure era così Era come se Un lucente Plenilunio di settembre Illuminasse a giorno La facciata Di una grande villa In pietra bianca Di una villa Non più distante Di mezzo chilometro Di cui si vedesse Ogni dettaglio Con precisione fotografica L'edificio Era anche circondato Da alberi Che surgevano Dietro la cappella E la casa Al signor Dillet Pareva di avvertire L'odore Di una notte settembrina Fresca E calma Di tanto in tanto Gli sembrava di udire Un battito di zoccoli E un tintinio Provenire dalla scuderia Come se un cavallo Si fosse mosso Poi Ancora più scosso Si rese conto Che sopra la casa Stava vedendo Non il soffitto Della propria camera Ma il blu intenso Di un cielo notturno C'erano luci Più d'una Alle finestre E ben presto Notò che quella Non era una casa Di quattro stanze Dalla facciata rimovibile Ma una villa Di molti vani e scalinate Una casa vera Anche se vista Attraverso Un cannocchiale capovolto Tu vuoi mostrarmi Qualcosa Mormorò il signor Dillet fra sé Fissando serio Le finestre illuminate Nella vita vera Avrebbero avuto Senz'altro Gli schicuri chiusi Restende tirate Pensò Ma così come erano adesso Nulla impediva Il suo sguardo Di osservare Che cosa accadesse All'interno Due camere Erano illuminate Una al pian terreno A destra Della porta D'ingresso E una di sopra A sinistra Nella prima La luce Era piuttosto forte Nell'altra Al quanto Fiocca La stanza al pian terreno Era la sala Da pranzo C'era una tavola Apparecchiata Ma il pasto Era già stato Consumato E rimanevano Soltanto il vino E i bicchieri L'uomo e il raso blu E la donna Imbroccato Erano da soli E stavano parlando Con molta gravità Seduti l'uno Accanto all'altra A tavola Con i gomiti Appoggiati Sul piano Di tanto in tanto Parevano interrompere Il discorso Per ascoltare Una volta Lui Si alzò Si avvicinò Alla finestra E l'aprì Per sporgere fuori La testa E portare la mano All'orecchio Suona credente In un candeliere D'argento C'era un cero Acceso A un certo punto L'uomo Si allontanò Dalla finestra Poi Sembra Abbandonare La stanza La donna Il candeliere In una mano Restò invece Arrittata Ascoltare Dall'espressione Che aveva sul volto Si sarebbe Detto Che stesse Facendo di tutto Per frenare Una paura Che minacciava Di impadronirsi Di lei E con successo Era Tra l'altro Un volto sgradevole Largo Piatto E malizioso Poi l'uomo Tornò Lei prese Un piccolo oggetto Delle sue mani E corse fuori Dalla sala Anche lui Scomparve Ma solo per un istante O giù di lì La porta D'ingresso Si aprì lentamente E l'uomo Uscì per fermarsi In cima alla scala Dove lanciò Uno sguardo A destra A sinistra Dopodiché Si voltò Verso la finestra Illuminata Al piano superiore E agitò Il pugno Era venuto Il momento Di guardare Con la finestra In alto Attraverso i vetri Si scorgeva Un letto Baldacchino Su una poltrona C'era un'infermiera O una domestica Che dormiva Evidentemente Della grossa Sul letto Giaceva un vecchio Era sveglio E Dal modo in cui Si voltava E muoveva le dita Tamburellando A ritmo sul copriletto Si sarebbe detto Nervoso Dietro il letto Si aprì una porta Sul soffitto Si riflette una luce E la donna entrò Depose la candela Su un tavolo Si avvicinò Al caminetto E svegliò L'infermiera Nella mano Stringeva una bottiglia Di vino Di foggia antica Già stappata L'infermiera La prese Versò una parte Del contenuto In un pentolino D'argento Aggiunse delle spezie E un po' di zucchero In grani Presi da certi Contenitori Sul tavolo E mise L'intruglio Sul fuoco Nel frattempo Il vecchio sul letto Chiamò con un debole Cenno La signora Che gli si avvicinò Sorridente Gli prese il polso Come a misurarlo E si morse le labbra Con aria costernata Lui la guardò Nervoso Indicò la finestra E parlò Lei annui E fece quello Che già aveva fatto L'uomo in basso Aprì i vetri E tese l'orecchio Forse con una certa Ostentazione Poi ritrasse la testa E la scosse Guardando il vecchio Che parve sospirare A questo punto La bevanda Fumava sul fuoco E l'infermiera La versò In una coppetta D'argento Due manici Portandola Al capezzale Del vecchio L'uomo Pareva Rilluttante A bere E fece Un giosto Di rifiuto Ma la signora E l'infermiera Si chinarono Entrambe su di lui E insistettero Il vecchio Dovette cedere Perché lo aiutarono A mettersi seduto E gli accostarono La coppa Alle labbra Lui beve Quasi tutto il contenuto In più sorsate Poi le donne Lo fecero stendere La signora Uscì dalla stanza Augurandogli La buonanotte Con un sorriso E portando Con sé La coppetta La bottiglia E il pentolino D'argento L'infermiera Ritornò Alla sua sedia E seguì Una pausa Di assoluta quiete Tutto a un tratto Il vecchio Sussultò nel letto Doveva avere messo Un grido Già che l'infermiera Balzò in piedi E con un passo Fu al suo Capezzale L'aspetto Dell'uomo Era triste E terribile Il viso Arrossato E quasi nero Di un Bianco Bagliore Negli occhi Le mani Strette sul petto La bava Alla bocca Per un istante L'infermiera Lo lasciò Da solo Corse alla porta La spalancò E Si suppone Chiese aiuto A gran voce Per poi Tornare D'un lampo A letto E a quanto pareva Compiere Un tentativo Febbrile Di alleviargli La pena Di farlo Stendere E di confortarlo In qualsiasi modo Ma quando la signora Suo marito E vari domestici Rupero nella stanza Con aria Atterrita Il vecchio Crollò Tra le braccia Dell'infermiera Ricadendo Supino Mentre i suoi tratti Stravolti Dall'agonia E dall'ira Si rilassavano Pian piano Per placarsi Del tutto Qualche istante Dopo Alla sinistra Della casa Comparvero Alcune luci E una carrozza Munita di fanali Si fermò Davanti al portone Un uomo In una parrucca Bianca E abito nero Ne uscì svelto E corse su Per le scale Recando un cofanetto In pelle A forma di baule Lo accorsero Sulla soglia L'uomo E sua moglie Lei con il fazzoletto Stretto tra le mani Lui Con un'espressione Tragica sul volto Ma senza Perdere il controllo I due Condussero Il nuovo venuto Nella sala Da pranzo Dove lui Depose la valigetta Sul tavolo E Rivolgendosi Ai padroni Di casa Ascoltò Con volto Costernato Quel che avevano Da dirgli Annui più E più volte Alzò un po' Le mani Rifiutò Così parve Le offerte Di vivere Di ospitalità Per la notte E nel giro Di qualche minuto Ridiscese le scale Montò in carrozza E riprese la strada Da cui era venuto L'uomo in blu Lo guardava Dall'alto Delle scale E il suo viso Grasso e bianco Fu attraversato Da un sorriso Per nulla piacevole A vedersi Mentre le luci Della carrozza Si dileguavano Sull'intera scena Calò l'oscurità Il signor Dillet Rimase invece Seduto sul letto Aveva indovinato A ragione Che ci sarebbe Stato un seguito Dopo poco Infatti La facciata Della casa Si rischiarò Nuovamente Ma le luci Si accesero In altre finestre Una Era in cima Alla casa E l'altra Illuminava La fila Di vetrate Colorate Della cappella Come si potesse Vedere attraverso Quei vetri Non è ben chiaro Ma era così Gli interni Erano arredati Con cura Come il resto Dell'edificio Con piccoli Cuscini rossi Sulle panche Baldacchini gotici Una balaustra Ovest E un organo Dalle canne dorate Sormontato Da un pinacolo Al centro Del pavimento Bianco e nero C'era un catafalco E quattro alti ceri Bruciavano Ai suoi angoli Sul catafalco C'era una bara Coperta da un drappo Di velluto nero Mentre Dillet Guardava Le pieghe del drappo Si mossero La stoffa Parve sollevarsi Da un lato Poi Scivolò in basso E cadde Lasciando esposta La cassa nera Con le sue maniglie lustre E la targa Del nome Un alto Candeliere Uscillò E si rovesciò Non facciamo più domande E distogliamo gli occhi Come si affrettò a fare Dillet Rifongendoli Alla finestra illuminata In cima alla casa Qui Un bambino E una bambina Erano stesi In due valandine Sotto il letto A baldacchina Della baglia Quest'ultima Non si vedeva Per il momento Ma c'erano Il padre e la madre Vestiti ad assolutto Seppure Dal loro contegno Non trapelasse Molto dolore Difatti Ridevano e parlavano Assai animatamente Ora tra loro E ora lanciando Una battuta ai figli E ridendo Per le loro risposte Poi Si vide il padre Uscire dalla stanza In punta di piedi Portando con sé Un panno bianco Appeso a un gaggio Vicino alla porta L'uomo si richiuse La porta alle spalle Ma dopo un paio di minuti Qualcuno La riaprì piano E fece capolino Una testa imbacuccata Una figura curva Dall'area sinistra Si diresse verso i lettini Si fermò di scatto Alzando le braccia Al cielo E si rivelò Ovviamente Essere il padre Redente I bambini Erano in preda Al panico Il maschietto Si tirò le lenzuola Sulla testa E la femminuccia Balzò giù dal letto Per gettarsi Fra le braccia Della madre Seguirono Vari tentativi Di consolazione I genitori Presero i bambini In braccio Le accarezzarono Presero il panno bianco Per dimostrare loro Che non c'era pericolo E via dicendo Alla fine Rimisero i piccoli A letto E uscirono Dalla stanza Con gesti Di incoraggiamento Mentre si allontanavano La balia Entrò E ben presto La luce Si spense Il signor Dillet Rimase però Fermo a guardare Una nuova specie Di luce Non quella Di una lampada E neanche Quella di una candela Ma una luce Pallida e orrenda Si diffuse Attorno all'uscio E sul fondo Della stanza La porta Si stava Riaprendo L'osservatore Non trova Opportuno Soffermarsi Sulla figura Che vide Entrare Nella camera Sostiene Che si potrebbe Descrivere come Una rana Come una rana Grossa quanto un uomo Ma con la testa Ricoperta Da una rada Chioma bianca Si diede Da fare attorno Ai lettini Ma non per molto All'orecchio Giungeva Un pianto Flebile Come proveniente Da una certa stanza Ma comunque Un pianto Infinitamente Raccapricciante La casa La casa Cade in preda A un tremendo Scompiglio Luci che passavano E salivano Porte che si aprivano E si chiudevano Figure Che correvano Accanto alle finestre L'orologio Della torre E della scuderia Batte luna E il buio Si abbatte di nuovo Sulla scena Ma l'oscurità Si dileguò Nuovamente Per mostrare La facciata Della casa In fondo In fondo al scale Erano disposte In due file Alcune figure scure Con in mano Torce fiammeggianti Altre figure scure Scesero i gradini Trasportando Prima una E poi Un'altra Piccola bara Con le casse Al centro Le file Con le torce Si mossero Allora silenziose Verso sinistra Le ore della notte Trascorsero Lente come mai Pensò il signor Dillet Pian piano Il collezionista Ricadde nel suo letto Dalla posizione seduta A quella distesa Ma non poté Chiudere occhio E appena fece giorno Mandò a chiamare Il medico Questi lo trovò In uno stato mentale Preoccupante E gli prescrisse Aria di mare Seguendo il consiglio L'uomo raggiunse A brevi tappe Con la sua auto Una placida località Della costa orientale Una delle prime persone Che incontrò al mare Fu il signor Kittenden Che a quanto pareva Aveva ricevuto A propria volta Il consiglio Di portare Sua moglie A fare città Per cambiare Un po' aria Quando i due Si incontrarono Il signor Kittenden Guardò a Dillet Con un certo sospetto E ne aveva Ben donde Beh Non mi stupisco Del vostro nervosismo Signor Dillet Cosa? Si E' vero Potrei dire Tremendo nervosismo Per la precisione Pensando A quello che abbiamo Passato io E la mia povera moglie Ma chiedo a voi Signor Dillet Quale alternativa Fosse la migliore? Distruggere un pezzo Così delizioso O dire ai clienti Vivendo Un perfetto Cinematografo In miniatura Dove va insieme A un dramma Di vita Vissuta in altri tempi Con rappresentazioni regolari Ogni notte a luna Voi Che cosa avreste fatto? Lo sapete In men che non si dica Ci saremmo trovati Due giudici di pace Nel salottino sul retro I poveri coniugi Kitten Sarebbero finiti Su un carro Diretto al manicomio Della contea E tutti avrebbero detto Eh Sapevo che sarebbero finiti così Penso a come beveva quel tipo E per di più Io sono completamente Astemio giudili Come voi Sapete bene Beh Ecco in che situazione Mi trovavo Cosa? Riprendermelo in negozio Beh Secondo voi? No Ma vi dico Che cosa farò Riavrete Tutti i nostri soldi Tranne le dieci sterline Che ho speso io E ne farete Quello che vi pare Più tardi In quella che In termini Accordi offensivi Viene definita Sala fumatori Dell'albergo Tra i due Si svolse Per qualche tempo Una conversazione A mezza voce Quanto sapete davvero Su quella cosa? Da dove viene? In tutta onestà Signor Dillet Non lo so Certo Viene al ripostiglio Di una casa di campagna Questo potrebbe Indovinarlo Chiunque Ma non posso dire Più di questo Credo che la casa Non disti neanche 150 km da qui Ma dove si trova esattamente Non ho idea La mia È solo un'ipotesi L'uomo A cui ho dato l'assegno Non è un mio Formitore abituale E l'ho perso di vista Però Ho idea Che battesse Questa zona del paese Ed è tutto Quello che posso dirvi Ma adesso Signor Dillet C'è una cosa Che non riesco a tagliarmi Dalla testa Il vecchio Credo che lo abbiate visto Arrivare in carrozza Io la vedo così Insomma Secondo voi Era il medico No? Mia moglie Pensava che lo fosse Ma io mi sono convinto Che si trattasse Dell'avvocato Perché aveva Dei documenti con sé E ne estraeva Uno ripiegato Sono d'accordo Rispose il signor Dillet A ripensarci Sono giunto Alla conclusione Che si trattava Del testamento del vecchio Pronto da firmare La penso così anch'io Disse il signor Kittenden Io ho immaginato Che da quel testamento Fossero esclusi i giovani No? Bene Bene Per me è stata una lezione Ne sono certo Non comprerò mai più Case di bambole E non sprecherò più denaro Al cinematografo Quanto all'idea Di avvelenare il nonno Beh Per come sono fatto Non ci sono mai stato portato Vivi e lascia vivere È stato sempre il mio motto E non mi sono mai trovato male Questo è certo Gonfio di questi nobili sentimenti Il signor Kittenden Si ritirò Nella sua stanza Il giorno dopo Dillet Si ricò al municipio locale Dove sperava di trovare Qualche indizio Sull'enigma Che tanto lo assorbiva Osservò disperato La lunga fila di tomidi E dei registri distrettuali Della provincia Pubblicati Dalla Canterbury And York Society Tra le stampe Appese lungo la scala E nei corridoi Nessuna delle case ritratte Assomigliava A quella del suo incubo Sconsolato Si ritrovò In una stanza abbandonata A fissare il modello Polveroso di una chiesa Racchiuso in una teca Di vetro scuro Modello della chiesa Di St. Stephen Coxham Dono dell'egregio J. Mewreiter Di Ilbridge House 1877 Opera del suo avvo James Matterware Deceduto Nel 1786 C'era qualcosa Nello stile dell'edificio Che gli ricordava Vagamente quello Dell'incubo Ritornò sui suoi passi Fino a una cartina Che aveva notato Su un muro E scoprì che Ilbridge House Si trovava Nel descritto Di Coxham Era proprio il nome Di uno degli stretti Che aveva notato Mentre scorreva La fila Di registri stampati E gli ci volle poco A trovare la voce Relativa al funerale Di Roger Milford Di 76 anni Avvenuto L'11 settembre Del 1757 E a quello Di Roger Ed Elizabeth Mereweather Di 9 e 7 anni Il 19 dello stesso mese Gli parve che l'indizio Per quanto fragile Meritasse ulteriori indagini E quello stesso pomeriggio Partì alla volta di Coxham All'estremità All'estremità est Della navata nord Della chiesa Si trovava Una cappella Milford E qui Sul muro a nord Ci sono le lapidi Delle persone in questione Roger Il vecchio Si distinse A quanto pare Per tutte le virtù Che rendono onore Al padre Al magistrato E all'uomo Il monumento funebre Era stato eretto Alla devota figlia Elizabeth La quale Non sopravvisse A lungo Alla perdita Di un padre Sempre perumuroso Per il benessere suo E dei suoi adorabili figlioli Quest'ultima frase Era stata chiaramente aggiunta All'iscrizione originale Una targa sul retro Raccontava di James Mereweather Marito di Elizabeth Che nel mattino della vita Praticò Non senza successo Quelle arti Che Se avesse continuato A esercitarle E avrebbero fruttato Secondo l'opinione Dei giudici più competenti Il nome di virtuose Vitruvia inglese Ma che Schiacciato dal castigo divino Che lo privò Di un'affettosa compagna E di una fiorente progenie Trascorse gli anni Più rigogliosi Della vita E la vecchiaia In un rifugio solitario Ancorché elegante Il suo grato Nipote ed erede Affida a questo Troppo breve Resoconto Dei suoi alti meriti Il proprio Devoto cordoglio I bambini Erano commemorati In modo più semplice E erano morti Entrambi La notte del 12 settembre Il signor Il signor Dillet Era sicuro Che Ilbridge House Fosse stato il teatro Di quel dramma In qualche album Di schizzi Magari perfino In qualche antica stampa Avrebbe potuto trovare Anche prove Convincenti Della sua ipotesi Ma la Ilbridge House Odierna Non è quella Che cercava lui È un edificio Elisabettiano Degli anni 40 In caldi mattoni rossi Con chiavi di volta E finiture in pietra A mezzo chilometro da lì In una zona bassa del parco Avvolte da antichi alberi Rivestiti di felci E ricoperti di edra E foderati da un fitto sottobosco Restano le tracce Di una terrazza rialzata Infestate di erbacce secche Qua e là Qualche colonna di pietra Due o tre cumuli Coperti di ortiche Rovie ed edera E pietre ornate Da fiori scolpite rozzamente In quel luogo Qualcuno disse a Dillet Sorgeva una casa Molto più antica Mentre usciva dal villaggio L'orologio del municipio Battè le quattro E lui sussultò E si portò le mani alle orecchie Come se avesse ricevuto un colpo Non era la prima volta Che udiva quella campana In attesa di un'offerta Da oltreatlantico La casa di Bambola riposa Avvolta con cura In un solaio Sopra le stalle Del signor Dillet Dove Collins La portò il giorno Che Dillet Era partito Per la costa orientale Questa è un'offerta Questa è un'offerta In un'offerta Questa è un'offerta